Come sono le condizioni di quest'area? Eh, come le vedete, è poco curata la zona, non è un granché diciamo. Tu vieni qui a passeggiare? Sì, a passeggiare ogni tanto quando capita. Adesso siamo fatti una passeggiata così questa mattina. Secondo te che tipo di interventi servirebbero? Indubbiamente magari qualche intervento così alle piante, a livello di potatura, curare un pochettino di più gli alberi, tutta questa zona dovrebbe essere curata. Siamo più andati a camminare un po' più verso di là, vedete che a terra è praticamente tutto rotto. Macerie? Esattamente, macerie. È un peccato però visto il panorama che c'è. È un grandissimo peccato, esattamente. In caso il sindaco si venisse a fare un giretto a qui ogni tanto, magari stesso lui vedrebbe le condizioni. Dovrebbe essere uno spazio comune ma è stata completamente distrutta, quindi viene adostata soltanto in previsione dei stabilimenti estivi, ma in realtà dovrebbe essere utilizzata tutto l'anno. Tu vieni qui a fare sport? Sì, prima venivamo sempre, adesso che hanno anche dato fuoco alla panchina non veniamo mai, quindi non è più fattibile questa cosa. Da cittadina vuoi fare una richiesta al sindaco? Sì, più che altro vorrei ripulire un po' la zona e mettere magari qualche controllo, visto che i ragazzi vengono, fumano, buttano tutto per terra. E poi ovviamente magari mettere una scogliera in più al mare, così le onde si attenuano e non viene sempre sporcato tutta la zona. Secondo te quest'area è pericolosa per i bambini? Sì, è completamente squallida, possono prendere la qualunque malattia, basta guardare per terra, c'è ruggine, sigarette, vetro. Anche per noi è pericolosa, non solo per i bambini. Come vengono controllate magari le strisce blu e vengono fatte le molte, si potrebbe anche controllare una zona aperta al pubblico. Come trova le condizioni di quest'area di via Calastro? Guardi, sono mesi sempre uguali, pessime. Perché? Che cosa c'è? Si gira intorno, spazzatello dappertutto, accumulata anche sotto le panchine. Le giostrine sono mesi che sono così. Non è fruibile? Ma io vedo che qualche ragazzino, qualche genitore porta i figli, potrebbero sfruttare anche queste cose abbandonate. Quindi che tipo di interventi servirebbero? Interventi di manutenzione ordinarie, basta sistemare le giostrine abbandonate, con pochi vigilanti, con un po' di pulizia al verde che è abbandonata a se stesso. Sarebbe molto molto meglio, no? Anche perché c'è un bellissimo panorama. Eh, guardi che adesso mi stanno andando a sedere per godermi 5 minuti del mare. Settimana scorsa addirittura ci giravano in motorino sulla pista qua, con i bambini piccoli che giocavano. Quindi pochi sorveglianze in più non farebbe male. Quali sono le condizioni di queste giostrine, di quest'area verde? Degrado. Si, si vede. Degrado assoluto. Non ci sta una vigilanza, nulla. Allora quindi sempre sporco, così. Sempre. Quest'estate ci stava una vigilanza, però comunque il vandalismo c'era e facevano finta di non vedere. Tu porti qui i tuoi bambini? Sì, eccolo là, uno solo. E come la trovi? È vivibile? È pulita? Pulita non tanto. È vivibile quello che ci permette, diciamo, di far giocare un po' i nostri bambini, però se vanno un po' oltre non possono giocare perché ci sono residui di vetro. Può essere pericoloso. Sì, esatto. Una cittadina vuoi fare un appello al sindaco per migliorare quest'area? Eh sì, magari mettere qualche giostrina un po' più adeguata, un po' più nuova e qualche sicurezza in più magari per i bambini. Quali sono le condizioni dell'area giostre qui a Via Calas? Non sono ottimali, a dire il vero. È perché non c'è molta cura, le giostrine sono quasi tutte un po' rutte, l'area non è tenuta pulita e poi purtroppo i nostri concittadini non lasciano i rifiuti nel cestino, forse ci vorrebbe qualche cestino in più. È un problema di inciviltà ma anche mancanza di controlli. Assolutamente, le responsabilità sono sempre condivise. L'appello è quello di vigilare, vigilare e operare in modo tale da poter consentire la fruizione degli spazi comuni a tutti i cittadini che hanno diritto di vivere in una città pulita e bene organizzata. Ma anche i miei concittadini devono stare un po' più attenti a rispettare le regole.